Una cultura del lavoro fondata sul bene comune, numerose le adesioni al primo corso di economia civile promosso dalla diocesi di Termoli Larino con il progetto Policoro in collaborazione con la Scuola Nazionale che vede tra i fondatori l'economista Stefano Zamagni, esempi concreti, esperienze riuscite e iniziative per un confronto operativo con le realtà del territorio. Il progetto, condiviso dal Vescovo Gianfranco De Luca, si svolge alla Casa di Formazione Diocesana di Larino e prevede anche un modulo alla sede nazionale. Autorevoli relatori tra docenti, esperti e studiosi si alternano nelle lezioni rivolte a studenti, imprenditori e operatori del terzo settore. Fare un corso di economia civile significa imparare un linguaggio nuovo e imparare un linguaggio nuovo vuol dire poi anche avere dei pensieri che poi diventano delle azioni perché abbiamo bisogno di recuperare all'interno del nostro mondo lavorativo, della nostra attività economica un senso molto più profondo che riporti al centro la persona nella sua completezza di corpo, mente e spirito e anche l'azienda all'interno di un contesto molto più ampio. Ovvero imprese che creano valore economico, sociale ed ambientale per il territorio hanno rispetto delle persone, hanno rispetto delle loro comunità investono nelle loro comunità e consentono all'economia di essere un'attività volta non solo al raggiungimento del profitto che pure è un indicatore importante di buona salute di un'organizzazione economica ma servono anche al raggiungimento della felicità pubblica. Il percorso continua e i partecipanti sono entusiasti di condividere un modello formativo che punta anche su un futuro sostenibile. L'idea nasce da una chiacchierata fatta con Monsignor Gianfranco De Luca il quale è il fautore di questo corso su quale impegno potevamo prenderci come diocesi per il nostro territorio e come potevamo fare affinché un nuovo modo di pensare potessi raggiungere il nostro territorio. Quindi da qui nasce la volontà di coinvolgere la Scuola di Economia Civile e creare questo corso che dia la possibilità a tutte le persone che si spendono all'interno del nostro territorio di guardare l'economia da un punto di vista diverso.